Il mal di schiena è sicuramente una patologia di interesse neurochirurgico che a volte ha necessità di un trattamento o medico, farmacologico o chirurgico. Oggi però noi siamo fermamente convinti che la postura ci può aiutare moltissimo in questa patologia. Ecco per cui abbiamo invitato la maestra Chan Chun Li, che è una maestra di Tai Chi, una disciplina che aiuta moltissimo nella postura della colonna vertebrale. A cui cedo volentieri la parola. Buongiorno a tutti. Io penso, penso io, con il dottore abbiamo fatto una ricerca su malattie, dolore sulla colonna. Allora questo tipo di malattie, a parte è avuto incidenti gravi, c'è bisogno di intervento, ma la maggior parte del dolore viene da muscoli tendini. La muscoli tendini è tensione e causa questo dolore. Noi lavoriamo sulla consapevolezza di persone, di rilassare muscoli tendini e correggere postura. Piano piano si elimina questo dolore.